Scusate, io potresti suonare senza cuffia? Forse anch'io Niente ragazzi, suonate senza cuffia Anch'io quel quadro Stanto mi sono così comunque Però l'ho trovata a fare che non avevo tolto Stanto un po' Stanto un po' Non avevo sentito un po' Non avevo sentito un po' Non si 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 sentito un po' Così ce la tiriamo via dalle palle Poi lo posso sentire qua Magari che da mano in mano O vuoi già sapere la sequenza Dei pezzi da mandare in ordine Mentre c'è un brano Vedete quello che volete Il secondo allora Perché tanto il primo parte da tutto Ma che sarà sì 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 noi adesso cominciamo con la canzone adesso passiamo noi partiamo con una sono tutti i segreti perché dalla gnocca guarda la gnocca che bella gnocca mi raccomando a parlare ve lo tirate ma me lo prendete sul naso più che sulla bocca un'idea che è nata dal nostro batterista mitico davide corrali durante appunto il cantando in scena in sala prove abbiamo detto ma perché è durata esattamente la bellezza di 30 secondi quindi è bellissimo così faremo degli aggiustamenti faremo cose un po' pesate il bello della diretta è più diretta di così è uno spettacolo veramente star t good bye you star t good bye you good bye you you never think about me i never think about it i never know what's going on good bye you never say you love me i never say i love you i never know what's going on good bye you never know what you love me i never know what's going on però se ti vuoi impegnare in un cosetto così penso che tutti noi ci crediamo adesso veramente arduo riuscire anche a suonare in giro la tua musica 457 25 bene 21 e tre minuti siamo alla fine di questa puntata di che robice dove ventuno circa come avete visto sforiano un po di un qualche minuto dopo le 21 e così ci salutiamo con i ragazzi con gli star t che sono stati gli ospiti musicali di questa grazie grazie mille siamo stati veramente molto contenti i ragazzi di aver riconosciuto di averli dato lo spazio giustamente che meritate grazie allora però ci sono alcune cosette che dobbiamo ancora ancora fare innanzitutto dare un po gli indirizzi di estremi vari citi di queste cose che generalmente si fanno sulle finire sul finale di una trasmissione nel fienile stanno dicendo allora abbiamo il myspace www.myspace.com slash start e e e e e e quello è il nostro myspace in più abbiamo anche la nostra pagina facebook che ci potete cercare la nostra foto c'è questo c'è la foto di di marte che risolverebbe poi la copertina come puoi vedere del nostro cd con scritto proprio star t e c'è questo bambino che indica il cielo e noi siamo star barretta t fateci sapere quando suonate in zona che noi alla grande sicuramente rifonderemo la notizia volevo anche prima di salutare ognuno ciascuno dei componenti della band ringraziare leo leo che grazie grazie troppo buono per me è come se fossi in vaticano sono vent'anni che ascolto questa radio il fotografo degli star t ma anche da quello che dice ciao mirko ciao 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 ragazzi star t con il regalino finale esatto ci avevano promesso che avevamo comunque promesso io spero che non sia che non duri molto questa cosa qua no cioè che non duri molto questa lunga via per raggiungere la speriamo di no it's a long way to the top è una cover che non hanno dovuto fare hanno dovuto mettere in questo loro primo lavoro chiaramente avrete già capito che stiamo andando a pescare dalle parti degli assi di sì esatto star t ragazzi grazie bravi ciao ciao ragazzi sento spilare il telefono e vedo nel display ed esaminare ma come è possibile visto che non ho ancora composto il numero e il telefono sono quelle coincidenze che ci hanno portato qua nello stesso momento noi ci stavamo chiamando bellissima questa è stata una cosa strana questa è stata credo molto carina allora io lo so parlate tutti no ragazzi sì 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 ci farei a tutti 5 e 3 notazioni 0 5 2 2 4 5 7 2 5 7 bene 21 e 3 minuti siamo alla fine di questa puntata di Kerov 19 e 21 circa come avete visto sforiamo un po' di un qualche minuto dopo le 21 così ci salutiamo con i ragazzi con gli star t che sono stati gli ospiti musicali di questa grazie grazie mille siamo stati veramente molto contenti i ragazzi di avervi conosciuto di avervi dato lo spazio giustamente che meritate grazie allora però ci sono alcune cosette che dobbiamo ancora ancora fare innanzitutto dare un po' gli indirizzi estremi i vari fiti i vari fiti queste cose che generalmente si fanno sulle finire sul finale di una trasmissione nel finire stavo dicendo nel finire della trasmissione allora abbiamo il myspace www.myspace.com slash start scritto start e e e e e quello è il nostro myspace in più abbiamo anche la nostra pagina facebook che ci potete cercare la nostra foto c'è la foto di Marte che risurrebbe poi la copertina come puoi vedere del nostro cd con scritto proprio start e c'è questo bambino che indica il cielo e noi siamo star barretta ragazzi voi fateci sapere quando sono nati in zona che noi alla grande sicuramente diffonderemo la notizia volevo anche prima di salutare ognuno ciascuno dei componenti della band ringraziare Leo Leo che grazie grazie troppo buono per me è come se fossi un Vaticano ci sono vent'anni che ascolto questa radio che è il fotografo degli start ma anche da quello che si diceva così a microfoni spenti un grande appassionato di musica e di K-Rock e poi da sua un grande ascoltatore di K-Rock radio station allora Luca ciao Luca ciao Elisa ciao Mirko ciao Marco ciao Davide ciao Mirko edo ciao edo ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi starti con il regalino finale esatto avevano promesso chiedevamo comunque promesso io spero che non sia che non duri